Stasera sei sul palco del Seat, come sono andate le prove? Bene, benissimo, sono sempre tutti molto gentili, operativi, poi cantare qua è sempre una grande cosa. Siccome è tornare sul palco dopo un anno di pandemia, come sei in tour, come procede? Ma allora, io sono in tour in questo momento, non sono in tour già da un po', quindi onestamente abbiamo iniziato a cantare già da un po'. Devo dire che è sempre una grandissima emozione perché l'energia che ti trasmette la gente è completamente diversa. Cioè è proprio un'energia di chi vuole, di chi non vede l'ora, di chi ha bisogno. E penso che sia una cosa che riguarda sia chi sta sopra il palco che chi sta sotto, perché abbiamo proprio voglia. Abbiamo fatto durante la pandemia un sacco di cose sul telefonino così, no? Sai, via. È stata la nostra salvezza, però la gente dà il vivo un'altra cosa. E ringraziamo il cielo, se Dio vuole, ripartiamo alla grande. Grazie a tutti, ringraziamo Marisa e faccio un grande in bocca al lupo per questa sera. Grazie, anche io faccio un grande in bocca al lupo a voi. Ciao. Grazie.